Ciao a tutti, questo canale si chiama stelle in polvere. Perché stelle in polvere? Perché siamo tutti fatti da polveri di stelle, ogni percentuale del nostro corpo. Vedremo come ci arriveranno le stelle alla polvere, scopriremo come si formano le stelle, appunto come esplodono, cosa succede, come diventeranno magari buchi neri. Parleremo di materia oscura, parleremo di nuove scoperte, di un sacco di cose che vi interessano, però saranno alla portata di tutti, ve lo prometto, anche chi non sa nulla di astrofisica, di fisica, di astronomia. Ne parleremo insieme, sarà divertente, ci divertiremo e se avete domande io sono qui per voi. Ciao!